L'assessore è sul pezzo e se guardino bene quelli che vogliono diffondere notizie, venticelli sul fatto che la ragione non c'è. La ragione c'è ma la ragione vuole che le carte siano a posto perché le carte devono essere rispettose della legge e siccome qui stiamo parlando di un progetto importante è bene che le carte siano messe in linea, messe bene. Non sto dicendo che non sono messe bene ma anche la facciloneria nell'affrontare discussioni pubbliche sul GRA non aiuta il GRA. Noi sappiamo che bisogna seguirla in maniera assolutamente precisa e rispettosa della legge.